Nell'ultima legge di bilancia avete aperto le isole pedonali alle auto ibride elettriche. Non è che vogliamo fare del bello del nostro paese di nuovo un parcheggio? No, perché non sono le isole pedonali, sono le ZTL al limite. No, sono le isole pedonali. Non è traffico limitato. Sicuro, sono le isole pedonali. Comunque, al di là di questo aspetto, in ogni caso, so che ci sta un pensiero di rivisitazione.